Perfetto Sani E' già in mezzo a profondo il servizio Entra il campo di una palla di una chiesa di 66 Signora, il numero 9, Silvia Versicogli Vai partire alla conotto, perfetto Sani Alessia Chiesoli Sani Ricordo il beneficio del pubblico che la partita di play-off in casa sarà per forti se si mangia le ore 20.30 Perfetto E' così Cristina Dall'Alego Perfetto Perfetto Prima a parte 10 Cristina Dall'Alego Perfetto Prima a parte 11 Prima a parte 11 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.